Martedì 26 febbraio 2019, siamo di nuovo su CiperTV, bentornati in world di oggi al minuto 0 inizieremo a performare 21, 15 e 9 power snatch e burpees, dal minuto 5 al minuto 10 faremo rest dal minuto 10 al minuto 15 faremo 15, 12, 9 overhead squat, lateral burpees, al minuto 15 riposo al minuto 20 riprenderemo e faremo 9, 6, 3 squat snatch e bar facing burpees, peso e scalature sulla grafica qui dietro, ci vediamo domani per un altro body insieme su CiperTV, buona giornata